Il caso tra Siena il sì non ha niente da dire perché non ci sono motivazioni degne per una riforma del genere, come del resto non ci sono motivazioni che vanno nella direzione democratica e favore di chi lotta per i propri territori, per chi lotta per difendere il diritto a abitare, per chi lotta per difendere il diritto a lavoro, tutte le serie di riforme quelle che hanno preceduto e ricarizzarli, proprio come oggi, un sacco di sfirli per difendere un pagliaccio che non è nemmeno stato letto e che dal 4 dicembre se ne va a casa i tanti saluti. Presidenti, dietro un cordone di polizia, dentro a quattro mura, questo è il confronto che il governo Renzi, che il partito democratico, che Giorgio Gari, che tanta millanta, che se ne esce a tavola e confrontarci, questo è l'unico confronto che il partito democratico mette in atto. Polizia, militari, grazie ai territori! Grazie!